Lo sguardo che rimane è il titolo della nuova esposizione che è qui nella bottega di Giovanni Santi alla casa di Raffaello. Continuano le esposizioni in questo luogo magico per avvicinare tutti al mondo dell'arte più varia. Certo, anzi queste iniziative non si fermano mai, è una sorta di tormentone, un tormentone benefico, un tormentone culturale. È un po' la missione dell'Accademia Raffaello. Oggi sono i disegni di Vitali Zerdef che affollano le pareti della casa di Raffaello, o meglio della bottega di Giovanni Santi nella casa di Raffaello. Sono incontri, incontri con persone che si traducono in segno, si traducono in una impressione di occhi che guardano l'artista e che lasciano quindi un segno molto forte. Non escludo che guardando questi occhi si possa vedere anche l'occhio dell'artista a riflesso su queste immagini, ma certamente sono tante persone che l'artista ha incontrato nella sua vita e che poi ha tradotto in segni su fogli. E' importante questa mostra anche perché a un anno di distanza dall'inizio della guerra in Ucraina ci permette di poter apprezzare le opere di questo pittore. Per la casa di Raffaello è una bellissima occasione quella di ospitare una mostra per un artista in fuga dalle bruttezze della guerra. Sì, per me è una grande onore e una grande opportunità di assicurare l'artista ucraina, l'artista classica. Un grande onore essere qui a Urbino e soprattutto in un ambiente come quello della casa di Raffaello. Un importante focus su quello che è il disegno base di tutti i tipi di arte. Uno studio su quella che è la figura dei monaci della chiesa ortodossa nella prima sala e nella seconda un focus su quello che sono alcuni artisti, tra cui anche il figlio di Zerdev. Esattamente un anno fa alcune di queste opere erano state esposte in una mostra a Kharkiv solamente dieci giorni perché poi lo scoppio della guerra ha portato alla sospensione di questa mostra. un valore aggiunto per queste opere che sono adesso alla casa di Raffaello, questi sguardi dentro cui si possono cogliere veramente i sentimenti delle persone rappresentate.